I parlamentari del PDL rigettano le accusi al mittente e rispondono così al presidente della provincia Massimo Ferrerese che li accusa di non aver fatto nulla per evitare la fine della provincia messafica. Voglio dire che abbiamo chiarito che ciò che hanno detto alcuni zombie della politica locale non corrisponde al vero. Noi non abbiamo votato in Parlamento per la soppressione della provincia di Brindisi. La soppressione o riordine della provincia di Brindisi non è stata ancora stabilita, è stato indicato dal Governo con un atto successivo che deve essere ratificato dal Parlamento. In quella sede noi faremo le battaglie. Però notiamo che c'è un assoluto inadempimento da parte del Comune di Brindisi e della provincia di Brindisi che nonostante abbiano avuto dai loro rispettivi consigli un ordine del giorno all'unanimità votato che gli autorizzava a predisporre tutte le iniziative anche giudiziarie per resistere a questa cosa, sono andati col cappello in mano a vendere a chiedere di essere riordinati con Taranto venendo trattati nella maniera in cui sono stati trattati, prendere o lasciare. La provincia di Brindisi dunque non è morta e proveremo a salvarla, ha affermato il senatore Michele Saccomanno, ma se così non sarà attraverso una sorta di referendum, PDL vorrebbe che fossero i cittadini a decidere con chi e in che modo accorparsi con Taranto o Lecce. Il PDL innanzitutto si deve muovere spingendo il Presidente della provincia e il Sindaco del Comune di Brindisi a rispettare quello che è il Consiglio Comunale di Brindisi e quello che il Consiglio Provinciale ha detto, quello di fare un ricorso. Non è che il Consiglio Comunale vale se dice una cosa che mi piace e usciamo in piazza con le bandiere per smentire gli altri, adesso in questo momento gli enti entrambi concordano e chi ne è il tutore, il rappresentante legale deve rappresentare quello che queste comunità hanno detto. Le indicazioni del PDL dunque in caso di inevitabile accorpamento è quella comunque di aggregarsi a Lecce, in questo modo nascerebbe la macro provincia Lecce-Taranto-Brindisi e sì perché Taranto non avrebbe più requisiti per rimanere provincia e sarebbe costretta ad accorparsi alle altre due. È ovvio che il sentimento dei Brindisini è legato alla storia della terra d'Otranto, ha una vicinanza culturale con Lecce e noi sponsorizziamo i comuni come i quattro che hanno già scelto, ce n'è un quinto in arrivo, che preferiscono andare con Lecce, lo fanno con dei libri di Consiglio Comunale, perché se lo facesse l'intera provincia di Brindisi Taranto non avrebbe più requisiti e questa non è una battaglia contro Taranto ma è una battaglia pro ed è una battaglia pro la terra d'Otranto. La mia richiesta primaria sarà quella che la Regione dovrebbe costituirsi contro quella legge perché l'articolo 17 è palesemente incostituzionale e se è vero che la Regione Puglia, che dovrebbe essere terza rispetto a tutte le province e tutti i comuni, deve fare gli interessi di tutte le province, allora vedremo se faranno gli interessi di tutte le province oppure rimarrà baricentrica con Bari capitale della Puglia e poi tutto il resto, quel che succede, succede. Il capogruppo del PDL al comune di Brindisi, intanto Mauro Dattis, spara a zero sul sindaco Mimmo Consales che si sarebbe a suddire spesso sulla vicenda accorpamento province sui tavoli istituzionali senza interpellare l'intero Consiglio Comunale. C'è un Consiglio Comunale fatto di destra, di sinistra, di centro che ha all'unanimità approvato una linea, ha detto al sindaco guarda vai e difendi in ogni sede la provincia di Brindisi contro la soppressione della provincia. Non gli ha detto guarda vai e girati tutte le province che ci stanno intorno con il cappello in mano per cercare di capire con chi ci dobbiamo aggregare. E poi gli ha detto anche, poi torna e facci sapere, noi abbiamo non soltanto avuto questa omissione perché non c'è stata nessuna opposizione formale alla soppressione eventuale della provincia di Brindisi, quindi abbiamo dato per morta la provincia di Brindisi, hanno dato per morta la provincia di Brindisi, poi abbiamo avuto la coppia con Sales e Ferrarese che sono andati in altri consessi a dire guardate noi siamo pronti per accoppiarci, quello che ci tocca datecelo, fatecelo sapere, ma con chi hanno mai discusso l'idea per esempio di accorparsi con Taranto e non con Lecce piuttosto che fare una nuova provincia? Adesso sto dicendo cose perché così, di questo stiamo parlando. Il Consiglio Comunale non è il bar dello sport, il Consiglio Comunale è libera e dà un mandato al Sindaco, quel mandato il Sindaco lo deve rispettare altrimenti deve tornare in Consiglio e dire guardate questo mandato non lo posso rispettare per questo, questo e questo. Questa è un'omissione gravissima dell'atto d'ufficio del Sindaco ed è soprattutto una grande mancanza di rispetto nei confronti dei Consigli Comunali. Anche quelli di maggioranza che poverini adesso che sentiranno si intervista usciranno col solito comunicato stampa e diranno Dattis dice queste cose perché ha perso. E' una mortificazione anche loro, però mortificati loro me ne frega, mortificato io mi interessa. Dunque secondo quanto affermato dai parlamentari del PDL ancora nulla sarebbe stato votato in merito all'accorpamento delle province, ma quanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in merito all'articolo 17 sul riordino delle province e la loro funzione del 7 agosto 2012, il comma 4 bis parlerebbe chiaro. In questo comma si legge In esito al riordino a cui il comma 1 assume il ruolo di comune capoluogo della singola provincia, il comune già capoluogo di provincia con maggiore popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni già capoluoghi. Insomma automaticamente sarebbe Taranto il comune con maggior numero di residenti. Insomma la telenovela continua.